Certamente l'amministrazione di Nicola Finco dovrà prendere in mano le grandi incompiute cittadine, dal nuovo teatro al Genius Center e giù fino all'ascensore di Viale dei Martiri. Ma il nuovo sindaco si troverà a gestire nei suoi primi giorni di mandato un'altra situazione che rischia di degenerare in vere e propria emergenza, fra movida fracassona, degrado nel salotto buono cittadino e addia al celibato che oltrepassano i limiti della decenza e del decoro. L'ultima esagerazione in ordine di tempo risale al fine settimana quando i festeggiamenti prematrimoniali di un giovane si sono trasformati in una irrispettosa parodia della passione di Cristo, con tanto di travestimento in tema. Per di più il gruppo ha abbandonato fra Angarano e il ponte una scia di particole che pur non essendo consacrate hanno rappresentato un vero schiaffo per la città. Qualche ora dopo c'è stata parecchia tensione fra gruppi di giovanissimi sempre dalle parti del ponte e c'è chi parla di una scazzottata e di una rumorosa fuga dei ragazzini coinvolti nella rissa nella veda del centro storico. Per non parlare delle continue segnalazioni che arrivano dai residenti stanchi di trovarsi fra i piedi gli esiti della trasformazione di alcune zone in veri e propri Vespasiani fuori ordinanza. Idem per danni ai palazzi, vetri rotti, bottiglie abbandonate e tanto altro ancora che va a cozzare con l'immagine da cartolina di Bassano. Una bomboniera che richiama nei fini settimana un turismo tutto speciale, quello di chi ha voglia di trascorrere una serata in un luogo magico, in un circolo virtuoso in grado di alimentare l'economia del territorio e il prestigio della città. Viceversa il moltiplicarsi di situazioni a limite eppure oltre, come si è visto di recente, potrebbe innescare un circolo vizioso potenzialmente devastante. Il tema è già nell'agenda del nuovo sindaco che non avrebbe alcuna intenzione di lasciar correre quel che corre incontrollato da troppo tempo ormai, dal punto alle piazze.